In conclusione, sgomberando il campo sulla correlazione tra incidentalità nei cantieri, viste le serie storiche, specialmente nei cantieri ferroviari, e spinta ai lavori pubblici indotta dal PNRR, visto che i cantieri aumentano di volume ma diminuiscono quantitativamente parlando, e eliminando qualsiasi correlazione con il nuovo codice degli appalti che ha acquistato efficacia per i nuovi contratti dal 1 luglio 2023, mentre qua si parla di un accordo quadro risalente al 2020, non si possono ovviamente comunque attribuire genericamente le colpe dell'incidentalità nei cantieri ad altre norme, ad appalti, a subappalti, visto che, ripeto, la nuova norma avrà i propri effetti nei mesi e degli anni a venire, norma sul subappalto, visto che ho letto tante cose, peraltro inserita nel codice degli appalti, su iniziativa del Consiglio di Stato e su richiesta dell'Unione Europea per evitare un procedimento di infrazione che senza questa norma sarebbe stato aperto a carico dell'Italia. Nel nuovo codice le clausole sociali e le garanzie per lavoratrici e lavoratori, anche in caso di ricorso al subappalto, sono massimamente osservate. E poi mi auguro che da questa discussione che ovviamente tutti noi avremmo evitato, dedicando il tempo alle interrogazioni che mi arrivano, anche alle solicitazioni del singolo deputato su quella linea ferroviaria, su quel piano di sviluppo aeroportuale, su Marpensa, sul porto di Gioia Tauro, sulla Napoli-Bari, piuttosto che sulla Brescia-Verona-Vicenza, che queste cinque morti non rimangano ovviamente un incidente. Io quando sento parlare di morti bianche non mi rassegno alle morti bianche, quindi mi auguro che nel suo complesso quest'Aula, che giustamente perché è il bello della democrazia al diritto e il dovere di dividersi su tanti fronti sul tema della sicurezza del lavoro, si unisca e metta a disposizione delle istituzioni tutte quello che potrà essere fatto per evitare tragedie come questa. Grazie per l'ascolto e per la pazienza.